forza signori i porcini non li pianti no no un'altra russula un'altra russula guardala qua no sembrava buono niente un'altra russula porca miseria che sfortuna ho che sfortuna ho è incredibile un altro scleroderma pazzesco guardatelo un altro scleroderma è incredibile è incredibile non riusciamo a trovare il porcino numero 10 signori è pazzesco eppure stiamo sondando alla grande stiamo sondando alla grande forza ragazzi sostenete il canale sostenete fast tutorial italia che si sta impegnando tanto in questa ricerca incredibile forza ragazzi dai su forza andiamo qua andiamo qua andiamo qua andiamo qua andiamo qua signori potremmo trovare il porcino numero 10 attenzione andiamo con molta calma ripeto ci va bene qualsiasi boletus anche il porcinetto della della betulla della quello che si trova vicino al castagno un boletus dal porcino dal piede rosso non dobbiamo trovare per forza il porcino edulis bellissimo fantastico a noi per fare il numero 10 ci va bene qualsiasi boletus basta che sia da mangiare buono anche se non è bellissimo anche se è un po mangiato dalla lumache fa niente l'importante è che esca il numero 10 lo stiamo cercando signori abbiamo trovato i 9 finora 9 ci manca il numero 10 incredibile non riuscire a portare a casa il numero 10 sembra che faccia apposta non ci vuol far trovare il fungo numero 10 attenzione abbiamo un fungo attenzione una manita eccolo signori 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 chiamate nonna zio papà nonno signori abbiamo il porcino signori signori abbiamo un porcino strepitoso guardate un po' vicino la manita guardate un po' fungo spia fungo spia lì c'è una russa guardalo qua signori signori chiamate nonno zio e cugino signori signori ladies and gentlemen number 10 ce l'abbiamo fatta numero 10 numero 10 signori signori in diretta in live solo fast tutorial italia guardate qua che spettacolo come detto un po' mangiato guardatelo un po' mangiato era nascosto ma noi l'abbiamo visto l'abbiamo visto perché 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 qui c'è una manita e quando ci sono le manite mi dice anche una russola quando c'è una manita la russola raga guardare in giro guardalo qua raga number 10 eccolo qua eccolo qua ok è un po' mangiato ma è uno dei funghi più buoni in assoluto guardate che meraviglia profumo 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 oh yeah ragazzi number 10 qua c'è una lumaca ancora attaccata guarda che si vuole mangiare il mio fungo guarda che si vuole mangiare il mio fungo con le mani la butto fuori con le mani la butto fuori eccolo qua raga eccolo qua bingo number 10 ho detto che lo trovavo ve l'avevo detto che lo trovavo raga ve l'avevo detto che lo trovavo porca miseria e allora no e allora no raga e allora no raga e allora no raga eccolo qua number 10 guardalo qua bellissimo